La zona eroguita non possiamo mangiare dolci, vero? E' un'altra cosa, non possiamo mangiare dolci a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Leila, tanti auguri a te. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Se non ti spegneva era grave. Tanti auguri a te, tanti auguri a Leila, tanti auguri a te. Speriamo che sia a fuoco questa volta. Come? Speriamo che vada a fuoco? Speriamo che la candela, no la candela, che la ripresa sia a fuoco. Ok. Ma c'è bello. Un'ora, è bagnato, io non ce l'ho per truffare mai. Attenti i denti. Come si fa? Oh, attenzione, lo indirizzo al mio... No, no, meglio di no, aspetta che arrivi a papà. No, Leila, prima devi svitare e allevare col pollo. Piano, attenzione, oh. Indirizzo, attenzione, Leila, indirizzo al di là. No, prima lo devi svitare, poi. Levalo, levalo. No, 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 indirizzo al di là. No, no, no. E così lo rompi. No, 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 no. Basta, basta, aspetta che arriva l'aiuto. No, no, no. Basta, Leila, ferma, ferma. Volevo dirvi tante cose, ma non so da dole. È rosso, è rosso. Basta, Leila, ferma, ferma. Oh, Giove Sardà! Nessuno ci credeva. Ecco, è la prima bottiglia. Sì, si! Si, sai facciamare il termo! Bele! È la prima che apri. Precita andrata! La prima perché se vede piuola letta che me lo so dai. Non c'è iPad o io devo sono mancato i amici. Questo è il Vila! Grazie! Il Vila! I P erano i tempi e l'equile! Che mi ha protette! Questo è il Vila! È la prima della vita! Che apro sì! Venite a prendere lo sfumante! No, sono pulite! Dai! Noi non hanno anche le unghie lunghe! Non si può perdere così, ragazzi! Non si può perdere così, questo qua non l'affasta mai! È diventata fradigio, anche a quel fradigio! Non è colpa mia, se non torni mai, mai! Ma adesso è colpa mia! Adesso è colpa mia! Dai ragazzi, non indicate su! Che bella la busta! Avvicinatevi, avvicinatevi! Mamma, la vede? L'hai quasi? Che bellissima! E' la vita è fatta di giorni che passano inosservati e di momenti fatti per essere festeggiati! Che carina! Buon compleanno da Elaria, Martina e Lenia! Lenia che è bellissima! Poi ha detto ma quello che ha detto è meglio! E' bello il biglietto! Semplice! Leila è semplice! E' troppo carino! Sinceri auguri! Ma è bellissimo con i suori! Buon compleanno Leila, Giuseppe, Maria, Alessandro e Jamie! Grazie mille, venite qua! Grazie mille! E niente, dai! Bella, sei! Ah, fotografia, un regalo! Oppure è film? No, è un filmino! Grazie mille! E chi è questo regalo? Arianna! E chi è questo regalo? Aria! E' il tuo! Ci sarà il bigliettino! Vieni qua allora, Sidney! Vieni! Vieni qua allora, Sidney! Sidney, vieni qua! No, ecco ma di piano è segreto! Io ho la collezione di Siddiari! No, finché c'è il lucchetto è segreto! Vabbè, con te anche se ci fu solo il lucchetto è segreto uguale! Quindi... Chi è stato per il lucro之朝! Chi è stato per il ritardo! È un lucro di momento! Non, ecco ma di piano! Chi è stato per il ritardo! E un lucro di spattare. È avere un lucro di spattare! Un lucro di sul è vero! Che viene uno! E un lucro di spattare! È un lucro di sottopulare! È un lucro di spattare! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti